Mi chiamo Stefano Sanna, mi occupo, lavoro in screen line, mi occupo della distribuzione italiana dello schermo e dei videoproiettori Epson. Qui siamo al SIEC per presentare alcune novità relativa al nostro catalogo schermi. Sono delle novità in particolar modo per il mercato del service, al quale riproponiamo con alcuni nostri prodotti, con delle varianti e delle novità. Uno dei prodotti che particolarmente ci pregiamo di presentare ai novitatori è un nostro nuovo schermo che si chiama Forrent, che si compone di quattro elementi fondamentali attraverso i quali si può già costruire uno schermo in maniera molto semplice, con semplicemente questo movimento si può realizzare uno schermo di 2,40 m di base. A questo poi possono essere aggiunti degli elementi attraverso i quali.